è tutto pronto è appena cominciato questo primo match di sabato mattina che vede affrontarsi i ragazzi della dinamo gunners e gli uomini della real colizzati in completino grigio consueto vediamo questo match che emozioni ci regalerà buon calcio a tutti questa volta sì strana non è d'oretta e se ti rispute con la domessa lucio guarracino pala che resta lì voi che siete 10 decimi non potete capire di una bruttezza non si può spiegare tirano l'ha vinto la prima risposta della sua partita palo da metri zero finisce anche il primo tempo a ripresa tutto pronto appena ha cominciato il match nel secondo tempo e alcolizzati diamo gunners e parziale ancora fermo sullo 0 a 0 il match che emozioni ci regalerà brava fai boh non ti offendere che non va la b galluccio va a segnare il gol dell'1 a 0 che non è stato ripreso perché i suoi compagni di squadra mi ha rotto il treppiedi 1 a 0 e perché mamma mia galluccio va a toccare come un rapace il gol del 2 a 0 gli alcolizzati si portano un doppio vantaggio che errore clamoroso buccia di rabbito e battista va a segnare il golo che accorcia le distanze 2 a 1 mamma mia galluccio guarracino non la vede neanche galluccio va a segnare il golo che consente a realcolizzati di portarsi sul 3 a 1 torrelli rabito non perfetto nella occasione gol del 3 a 2 il palo da parte di galluccio ha cercato il poker personale nulla di fatto l'organizzatore ce la vediamo noi simone va piano caffè galluccio un colpo da biliardo con la punta del piede destro galluccio va a segnare il gol del 4 a 2 e finisce qui la vittoria 4 a 2 degli alcolizzati stranamente siamo qui con pappone galluccio con una volta migliore in campo questa vittoria da trascinatore poker 4 a 2 per gli alcolizzati che vittoria è stata racconta c'era un po' ci sono stati degli errori secondo me arbitrali attenzione accuse pesanti ci può stare una partita e nonostante questo abbiamo dominato ce la siamo meritati senti ormai siete un rullo compressore le vincete tutte avete paura di qualche squadra vissere qualità tecnica delle altre concorrenti oppure siete convinti di essere più forti stiamo convinti di essere più forti ah così sicco giochiamo sempre bene e vincevamo sempre tanti gol di scarto va benissimo qualche dedica per questa vittoria e questo poker trocenzano sempre bravi ragazzi bocca al lupo